Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft del numero 41 della nostra serie ovvero la Maullocraft Signori miei oggi siamo tornati a casa, siamo belli tranquilli a casa signori miei, guardate siamo sul terrazzo della nostra casa Là c'è Gigio e anche il nostro lama, là sotto si vede ancora vivo nonostante la nostra tanta lontananza da casa è rimasto vivo Ragazzoli prima di partire col video io vi ringrazio per i like, per i commenti, per il sostegno che stai dando a questa serie Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Facebook che su Instagram, i link sono in descrizione E se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni trovate anche in descrizione il link per poterlo fare tramite Paypal Detto questo signori miei, partiamo con il video Ok raga, allora nel video di oggi, allora abbiamo fatto tre video di spedizione di torno a casa Ciao Lillo, prima o poi ti farò una cuccia anche a te, te lo prometto E a te, magna della fetta di carne, te, magna, bello, bravo Lillo Allora, abbiamo fatto dei video di spedizione signori miei, nei video di oggi, noi, oggi e anche nei prossimi video Sistemeremo un attimino il mondo signori miei Sistemeremo un attimino il mondo così da abbellire casa nostra e i vintorni Ovviamente io ringrazio Fringy che nei commenti dello scorso video mi ha scritto di fare la stanza degli iscritti, degli abbonati Dei donatori, di tutto quanto E quello è un progetto che si può fare raga, ma questo è molto avanti Perché ho intenzione, una cosa del genere, di fare, quando poi sarà possibile Fare una sorta di stanza sotto acqua, tutta fatta di vetro, una specie di piramide sott'acqua Con magari al centro il beacon, quando ci daremo il wither Che proietta verso l'alto e all'interno, diciamo, un passaggio segreto per entrare E fare all'interno tutta la stanza degli iscritti, spettacolare Però questo ci vorrà molto tempo e sarà molto lontano il progetto Perché noi dovremmo uccidere il wither, cosa che non è nei prossimi progetti Ecco, tipo farla là in mezzo, col beacon che spara in mezzo, vabbè, ok Concentriamoci sul video di oggi raga Iniziamo a piazzare i bambù che abbiamo recuperato dall'ultima spedizione E li mettiamo tutti qua Così alterniamo da quel lato le cannele a zucchero Da questa parte facciamo tutta la schermata di bambù Proprio bella tutta circondare l'area, quell'albero dovrà essere abbattuto In modo tale che faremo tutta la muraglia di bambù Che da casa nostra si vedranno e saranno molto carini E questo è il primo progetto di oggi Secondo progetto di oggi, secondo progetto di oggi Andiamo a sistemare la terrazza là sopra E questo sarà un progetto un po' più lungo, signori miei Infatti faremo un piccolo taglio Intanto devi correre, zio Corri, corri, ragazzo Andiamo a casa Vi faccio un attimino vedere qual è il progetto Dopodiché mi armo di tutto quello che mi serve E ci vediamo quando inizio a progettare Allora, noi qua sopra abbiamo questa sorta di zona di agricoltura Allora il mio progetto è Il mio progetto è Qua ci vanno messe le carote che abbiamo trovato nel villaggio E qua dietro voglio metterci le bacche Solamente che voglio sostituire tutta questa pietra Che non mi fa proprio impazzire Vorrei fare tutta l'aiola di terra In modo tale che è tutto circondato di erba Tranne al centro che ci saranno queste piccole aiole Praticamente Aiole, aiole Quindi Per fare tutto ciò, signori miei Ci serve tanta terra Punto uno Poi ci serve della terra verde Perché sennò l'erba non si riproduce Quindi ci dovrebbe servire il piccone col sick touch Che dovremmo avere da qualche parte Forse qua Efficienza e tocco di velluto Perfetto Poi ci serve una caterba di terra Che dovremmo avere in una di queste ceste Raga, prometto che un giorno di queste Sistemo tutto Lo prometto Lo prometto, signori miei Anche perché abbiamo fatto un magazzino troppo carino E non lo stiamo sfruttando per niente Qua ne ho terra Sì, aspetta Qua ne avevo terra C'ho questa terra di qua C'ho quest'altra terra di qua Così nel frattempo facciamo anche spazio Con tutta questa terra, signori miei Ce l'andiamo a liberare Scendiamo velocemente Che tra l'altro sta anche calando la notte Pigliamo due blocchi così a caso Dove li andiamo a prendere? Di erba Ne va a prendere due blocchi a caso Signori miei Di erba Tanto per appunto avere l'erba Che poi ci riproduce La nostra erba verde Ok Piamone qualcuno in più Così 4, 5, 6, 7 Quindi abbiamo preso 7 Un altro E 8 Perfetto Ora, io torno a casa raga Dormo Rapido taglio Sistemo tutta quella zona di là E ci rivediamo appena Sto iniziando a piantare Tutto quanto Allora ragazzoli Sto iniziando a Fare la nostra bellissima Aiolo Ho messo due blocchi di erba Così in teoria Qui dovrebbe iniziare Ad allargarsi L'unica cosa che ci siamo dimenticati Allora Mi serve questa zappa Mi serve questa zappa Dobbiamo fare Devo andare a recuperare Un secchiello d'acqua Perché mo mi sono dimenticato Agia Agia le ginocchia Mi sono dimenticato Di fare il secchiello d'acqua Signori miei Quindi Andiamo velocemente A fare un secchiello Lo riempiamo di acqua Facciamo la pozza Al centro per le carote Ovvero 1, 2, 3 Io non so quanti secchielli Avrò a casa A casa Però va bene Va bene Superflow Meglio sempre uno in più Che uno in meno Signori miei Meglio sempre uno in più Che uno in meno A giorni di visti Devo fare anche Un ascensore esterno Per salire direttamente sopra La casa nella montagna È carina Ma ogni volta Dobbiamo fare 70.000 scale Non è la cosa più divertente Del mondo Ok Siamo tornati qua sopra Rapido 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 Veloce Indolore Allora Se non sbaglio Il centro Dovrebbe essere Questo di qua Ok Perfetto Quindi qui mettiamo La nostra bellissima pozza d'acqua Mettiamo la nostra La nostra bellissima pala Facciamo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette E otto Quante carote abbiamo? Noi solamente tre Complimenti Solo tre carote Ho fatto otto Otto cosi Va bene Uno Due Tre Va bene Meglio di niente Sappiamo pure Il resto del terreno Prima che ci diventa Tutto 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 verde E non va bene Sappiamo 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 È così Non ci sto capendo Nulla Raga È così Sì Tre davanti Tre davanti Tre di lato Poi di qua sono invece di più Va bene Tre davanti Tre di lato Sì Dovrebbe essere così Il disegno dovrebbe essere questo Di qua ci va La cassa che metteremo dopo Ok Continuiamo a sostituire Tutta la Tutta quanta qua la terra A meno con questi blocchi Che ci sono qua Doviché faremo anche il progetto Per la Per le bacche Che se non sbaglio Le bacche non hanno bisogno di acqua Se non ricordo male Allora dopo lo vedremo E ci vediamo Appena ho completato tutto Raga Ok ragazzoli Ho creato qui il piccolo atrio Delle nostre bacche Non saranno tantissime Ma queste penso che ci bastano Le piazziamo così Senza farci male Io non so effettivamente Quindi abbiamo ancora Tre Due Ok non ne abbiamo più Comunque l'altro più o meno sarà Allora facciamo una cosa Scusatemi Ho rotto No sono scemo Ho rotto la bacca Va bene Comunque questo progetto Lo porteremo piano piano avanti Signori miei Appena Diciamo Ho altre carote E altre situazioni Da poter modificare Questa zona di qua Lo porteremo avanti Ehm Va bene Detto questo Altro progetto Altro progetto Che cosa mi è rimasto Qua la zappa La possiamo lasciare Qua però Si la zappa Lasciamola qua Appena mi cresceranno Qui le altre varie situazioni Raga Lasciamo pure Due stack di terra Che magari mi servono Per più avanti E niente E poi piano piano Vedremo di fare Le altre cose Altro progetto Signori miei Altro progetto Scendiamo qui a casa Scendiamo a casa Andiamo a recuperare Le Il legno Si rompono subito Si rompono subito Queste Non c'è neanche Modo di Perderci troppo tempo Allora Dove facciamo La zona delle bacche Signori miei La zona delle bacche Noi dobbiamo allargare Piano piano Il nostro mondo Quindi la zona delle bacche Questo è il nostro magazzino La cassa enorme Che è dentro E' tutta piena di casse Ma nessuna di queste casse E' riempita Signori miei Tutto casse ovunque Ma ce ne fosse una Che è piena La nostra zona delle bacche Signori miei Si Delle bacche di cacao La facciamo qua La facciamo qua Decisamente si Ovvero Come la facciamo La facciamo Facciamo quattro alberi Sono 27 Si dovremmo farcela Allora Facciamo uno Poi facciamo Un percorso centrale Che secondo me Così dovrebbe bastare Anzi Facciamo così Ok Quindi abbiamo detto Uno Due Percorso Uno Due Albero Albero Va bene Si Mi sembra abbastanza Abbastanza buona Come situazione Massimo potremmo spostarci Un po' più di qua Si spostiamoci un po' più di qua Raga Recupera questo Devo farmi un'ascia Ma ho preferito Farmi la palla Che non mi serve a nulla E' da meglio fare un'ascia Però va bene E questo ci spostiamo Da questa parte Ok Ora Come funziona il giochino Stessa cosa Ci spostiamo Di uno Due Tre E quattro Dovrebbero bastare No? E cinque Dai Siamo 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 larghi Lo spazio ce l'abbiamo Così lasciamo Lo spazio per la bacca Lo spazio No Però così siamo Siamo troppo larghi No Infatti qua 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 Ok 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 ce la facciamo Ce la facciamo Raga Qua puliamo tutto In corrispondiva Mettiamo questo qua Perfetto E ci siamo Mettiamo un'altra fila Così abbiamo tante bacche E quantomeno facciamo colore Va bene Ok Uno Due Tre E quattro Questo lo mettiamo qua E questo lo mettiamo qua Perfetto Tanto gli alberi ce li abbiamo Ora saliamo di tre in ognuno Uno E due Dovrebbero bastare tre Sì Penso di sì Sperando di avere abbastanza legno Più che altro Perché non ho fatto i calcoli Però ce la facciamo Ce la facciamo Raga Uno E due Perfetto Distruggo le ginocchia Uno E due Ci sono anche rimasti Praticamente Prendiamo le nostre bellissime fave di Kagao E facciamo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei E sette Arrempiamo tutto quanto l'alberello Di fave di Kagao Signori miei Queste Non hanno bisogno dell'albero vivo Per crescere Signori miei Hanno bisogno dell'albero della giungla Semplicemente l'albero della giungla Signori miei Per potersi riprodurre Per potersi riprodurre Hanno semplicemente bisogno dell'albero Alle quali loro Sono realmente attaccate Poi magari vedremo di metterci una Una Un qualcosa là sotto Per far colore Intanto di sicuro Facciamo una cosa Riesco a piazzare Una torta Perché sento dei pillager Raga Sento dei pillager E questa cosa Non mi piace per niente Sentivo dei pillager Mentre sta calando la notte Dove stanno? No Non ci posso credere Ma che cosa ci fate voi lì? Ah Ma porca Di una paletta Ambriaca Io devo venirvi Devo venirvi a scovare Porca miseria Dovete morire Dovete Tutto Guarda come è volato quello Come facevano essercene due lì? Dove sono gli altri? Ma porca Di una paletta Ambriaca Comunque Questa l'abbiamo fatto pure Raga Ora qui c'è solamente da sistemare Tutto quanto L'ambaratana E vedere come si può fare Una cosa carina Carina Noi abbiamo qua Dalla pietra Sì Dalla pietra ce l'abbiamo Non abbiamo il legno Però va bene Qua il percorso centrale Si può fare Sì Ok Quindi leva questo Dai 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 Veloce 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 Prima che cala la notte Pesantemente Leva 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 Ok Metti Metti questa pietra Così abbiamo il sentiero Che va anche in questa direzione Ok Perfetto Abbiamo il sentierino Che va anche in questa direzione Altono agli alberi Intanto torniamo a casa Andiamo a dormire Raga Perché si è fatta una certa E poi vediamo cos'altro possiamo fare Ok ragazzoli Allora Mi sono fatto un'ascia Così possiamo recuperare Una botta di legno Andiamo verso di qua Recuperiamo tutto Questo Caterbo di legno Che per ora ci serve Per sistemare Quella zona di là Del Del Come si chiama Del Delle fave di cacao Delle fave di cacao Ok Mi bastano questi? Sì Qua poi verrò A sistemare dopo Gli alberelli Creiamo i nostri Bellissimi tronchi Che poi mi servono anche Per fare delle ceste Raga Allora Vedete che il cacao Già sta spuntando? Vedete 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 Sta Sta fiorendo il cacao Signori miei Sta fiorendo il cacao Allora Questi dobbiamo levare Quattro Quattorno Signori miei Leviamo questi Quattro quattorno E mi sono portato La diorite Così manteniamo Sempre lo stesso disegno Più o meno Così vengono delle cose carine E alterniamo Ok Ci stanno Ci stanno Forse le ho fatti Anche nell'altra serie Questi No 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 La fabbrica di cacao Non avevo riuscito A trovarle Nell'altra serie Ok Ok raga Allora Facciamo un poco di slab Ok 24 mi dovrebbero bastare Boh chi lo sa Forse decisamente no 24 Però abbiamo la zappa Potremmo andare più veloci Quindi Leviamo questo Questo sentiero di qua Così Facciamo tutto Carino e coccoloso Ci mettiamo Gli slab Come se fosse Raramente La strada Che continua In questa Direzione Quante ne ho consumate 11 Forse ne devo fare altre Altre tre magari Ok Recuperiamo queste altre Sei che sono troppe Però vanno bene Allo stesso Ce le faremo bastare Leviamo questo Giro di terra Così Perfetto E andiamo Di slab Begli pesanti Ok Mettila lì Perfetto Così E come se il nostro sentiero Stesse continuando In questa direzione Possiamo venire A recuperare Le nostre Fave di cacao Signori miei L'unica cosa Che poi andremo a fare Però non penso Di avere abbastanza Legno Per poterlo fare E praticamente Dovremmo fare Un bel po' Di Di staccionate Quante ne possiamo fare Massimo Pochissime 9 Leva questo Mettimene una qua E questo qua E questo ce l'abbiamo fatto Niente Abbiamo solamente 12 12 sono molto pochi E però faremo Tutto un percorso A giro Con le staccionate Così In modo tale Da chiudere Questa zona di qua E rendere appunto Una zona Come se fosse isolata Dai Dai Questo poi Lo continuo off camera Raga E la prossima volta Ve lo faccio vedere Completato Sia questo Che la struttura Là sopra Detto questo ragazzo Io vi ringrazio Per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti Continuerò a portare Qualche abbellimento Magari off camera Così la prossima volta Ci concentreremo Su fare la Zona dei maia Ossi Visto che avremo le carote Anche se non vedo più Maiale Nel giro di un chilometro E in questa zona di qua Andremo a fare I nostri maialozzi Vicino alle nostre uova Col galline Vi ringrazio per aver guardato Questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti Per i commenti Per tutto quanto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo video Bella raga Ciao 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 Grazie a tutti.